E' bella a tutti ragazzi, oggi faremo la partita di calcio Abbiamo fatto già 5 prove, lo dicevamo già Allora gli abbiamo rotto il selfie stick, come si chiama? Selfie stick Ho tirato una cannonata e l'aveva messo in mezzo alla porta Ragazzi, giusto per il calcio, tre che scrive al canale e chi va al campanello, iniziamo Per Pasquale! Per Pasquale! Pasquale! Regà, scureggiando Asciutto! 1-0, devi stare in porta Ti senti allora Ti senti? Sì, ti senti Vai, valla, valla A me non me l'avevo mai passata E' perché io non sto scrivendo Mettigli il porto Tira! Madonna! Non c'è il telefono, al favore Se tu dove vedi la luce, tiri Credo che te investi in mezzo al posto No No C'è una mira, ogni uomo da giardino C'è una mira Dai che sei più forte Sì 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 Bascali Adi 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 Non posso credere Sei una pippa, godo Occhio al telefono Occhio al telefono Dai 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 Bravo Bravo Samuele Rigo 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 Tira Aspetta Ti metto il portiere Ma non è Ok Scusa Possiamo di fare un'altra prova con lui No 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 Aspetta Basta Basta Dai Dai Siamo scassi Dai Dai Mi dita bene Si scicola Quanto stanno? 2 a 1 Vai No 2 a 2 2 a 2 Occhio al telefono Guarda dietro Qua Goll Ma gli balla 3 a 2 3 a 2 E' peggio anche il catare Vai Attengo Attengo Merda 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 Rigo Tu Passa Rigo 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 oh oh o è un po' lungo un po' lunga un pochino ce l'è lungo ce l'è lunga come la pepana che volevi fare scusa volevi fare il canestro Occhio sempre al telefono Oh che vuoi? Sto tirando Tu vai va Ma io Stai facendo la papera Vieni a aiutarmi Valentina Non ti posso guidare Di venire Fatti 4 a 3 No 4 a 4 No 3 a 3 3 a 3 Bravo 4 a 3 Forza football Allez tira ora si sbaglia 5 4 state perdendo su youtube tanti forti siete voi vabbè in realtà quanto forti guarda che pippa oh 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 come hai fatto la pittata? mi parla che tu a parte la pittata sbagli guarda a te su non te la fai prendere vabbè c'è occhio 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 è quasi scivo dietro qua palo tiro palo traversa palo gol palo palo gol palo traversa palo gol Adri ma andai a ragionire se stai ti faccio palazzo dai porco Giuda ce ne manca una ma il pareggia 5 4 vai ma ogni tanto ci sta la papela non so mai faccio la papela che papela vai oddio che potenza questo porchiere di cacca ecco la cacca ecco Luca con la cacca che lui cacca chiudica no ma te lo puoi di quarantino sta là ma me sei una grossagli forte tetto tira vado fuori vai 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 passala stanno rivolando vai 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 no ricca tira no ma che cazzo ma che cazzo mi deve riuscire a dimensione eh ma Nico fuori vai ballo ballo vai vai piega e tira il dosso fuori vai ma che fai in posto scusa pareggio 5 a 5 è che non lo faccio mai ok quindi... arrivo oddio arrivo si è futuro vai 6 a 5 fermo fermo avremo una prova vabbè non ti do devi vedere se faccio così ragazzi aspetta mi trovo non so se ci capisco ragazzi ma sorridio ragazzi ragazzi vediamo questo video e ci vediamo al prossimo video ciao